Questa immigrazione è mal gestita perché noi accogliamo per il 90% migranti economici, quindi di clandestini, mentre in realtà i rifugiati o coloro che scappano da persecuzioni sono una minima percentuale. Non sono i dati della Lega, ma sono i dati del Ministero dell'Interno. Detto questo, giustamente vengono puniti dai propri cittadini quei sindaci che pensano più ad accogliere, a girare il mondo o mezzo mondo per raccogliere premi in ordine all'attività del Comune per l'accoglienza, pensano più a chi viene da fuori che non ai cittadini. Quindi la Nicolini viene bocciata clamorosamente a Lampedusa. La Nicolini, tradatto, ha intervistato dalla stampa stamattina, dice bocciata a Lampedusa per invidia, le porte aperte ai profughi non c'entrano niente. La stessa cosa è successa a Como, è successa anche a Belluno, a Cantù. Dopodiché ci sono teorie in ordine alla denatalità che dicono che bisogna intensificare e aumentare il flusso degli stranieri per compensare la denatalità. Un Paese serio invece ragiona per fare politiche di sostegno alla famiglia. Questa è la ricetta chiara della Lega Nord. Volevo tornare poi su due altri aspetti detti prima, sulle classi sociali che sono molti arrabbiati. Il dato di domenica l'ha dimostrato. L'affluenza alle urne è calata rispetto alle precedenti amministrative di sei punti e non è poca cosa. Questo spiace perché aumenta la disaffinzione nei confronti della politica e della buona amministrazione. Questo non va assolutamente bene, servono politiche e amministrazioni che siano assolutamente credibili. Grazie. Grazie.